Musica Allarme variante inglese nelle Marche, presente nel 96% dei campioni analizzati, il Servizio Sanità della Regione cambia il tracciamento dei contatti e l'uscita dalla quarantena. Roberto Burioni interviene in Consiglio regionale e attacca i medici che rifiutano di vaccinarsi e l'affronto maggiore ha la memoria di Carlo Urbani. A Fossombrone l'appello del Sindaco Bonci che chiede di ampliare il punto di vaccinazione all'ospedale di comunità. Intanto al Codma di Rosciano Afano è pronto il piano superiore della struttura, c'è l'accordo con la protezione civile. Sono più di 250.000 marchigiani vaccinati, al via l'adesione per i disabili gravi e le persone estremamente vulnerabili. E' una follia tenere chiuse le attività anche ad aprile l'attacco al governo del direttore della Confcommercio Merigo Varotti. Le aziende stanno morendo e i contagi sono altrove, gli assembramenti non controllati. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai nostri titoli. Nelle Marche si stima che la metà delle persone contagiate siano positive alla variante inglese. E oggi tramite una circolare sono state cambiate le modalità per i tamponi e per il tracciamento dei contatti. Sentite. Trattare tutti come se fossero positivi alla variante inglese è quanto stabilisce una circolare del servizio sanitario della regione che ha cambiato le modalità di lavoro sull'intero territorio. Infatti l'incidenza di questa variante è aumentata a dismisura e ormai, come ci ha riferito oggi l'epidemiologo Marco Pompili, è presente nel 96% dei campioni analizzati. Una situazione complessa che ha indotto gli esperti a correre ai ripari. A darne notizia il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azur, Area Vasta 1, Eugenio Carlotti. Questo ci comporterà dei cambiamenti organizzativi notevoli, molto impegnativi anche in termini di volume di lavoro e di ricadute sul personale, sia per quanto riguarda le indagini epidemiologiche, che dovranno andare indietro di molto anziché delle 48 ore attuali, sia per quanto riguarda l'afflusso i drive, tipo questo che abbiamo qua dietro, perché pare che tutte le persone, parte delle quali venuti a contatto con casi di Covid positivi, attualmente escono con un rapido semplicissimo, con un test rapido, dovranno uscire dalla quarantena con un test molecolare. Per i tamponi questo cambia qualcosa? Per i tamponi cambia che se le indicazioni della circolare di questa mattina verranno confermate, il numero di soggetti che dovranno fare quotidianamente il test molecolare presso i tre drive Piesor-Rafane Urbino dell'Area Vasta 1 potrebbero addoppiare in termini numerici. Questo comporterà una mole di lavoro, come dicevo prima, notevolmente più elevata. Carlotti poi ha precisato che al momento le sedi vaccinali rimangono le stesse, ma non escluso che determinate condizioni possano essere aumentate. Buone notizie sono in arrivo per il punto allestito a Rosciano di Fano. Sì, al momento i punti vaccinali rimangono i tre che sono aperti, questo alle nostre spalle, che è il Codmo di Fano, per ora con la parte a piano terra, che finora ha gestito brillantemente, direi senza particolari problemi, le categorie che hanno avuto accesso ad oggi. Quando partiremo con il resto della popolazione, che evidentemente ci impegnerà per tutta l'estate, è già subito pronta la parte superiore del Codma, in cui ci sono diverse stanze già sostanzialmente attrezzate e autosufficienti, per la quale abbiamo già trovato l'accordo con la protezione civile, quindi Fano è a posto. Urbino abbiamo la sede che rimane al palazzetto, al Palacarneroli, stiamo valutando la possibilità di affiancare a questa sede o di sostituirla, con una sede alternativa che potrebbe essere il bocciodromo, che però richiede alcuni interventi di manutenzione. A Pesaro invece ieri è partito il nuovo punto all'ex Arristo all'interno del Rossini Center, che è andato a sostituire quello realizzato al centro sociale Monaldi. Ho appena chiamato per sapere come stanno andando le cose, le cose vanno molto bene, il punto risponde alle nostre aspettative in termini di gestione dei flussi, di comodità, di comfort per i vaccinandi e per i loro accompagnatori. È molto importante per noi avere un punto così potenziale in termini di numeri, perché lì potremo vaccinare fino e anche più di 1500 persone al giorno. Il discorso di aggiungere sedi ulteriori è un discorso che noi sostanzialmente condividiamo come aria vasta, a patto che ci venga messo a disposizione il personale necessario. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono morte 10 persone con coronavirus, nessuno era residente in provincia di Pesaro Urbino, mentre la vittima più giovane è un 51enne di Monte San Giusto, in provincia di Macerata. I positivi rilevati nell'ultima giornata sono 333, di cui 100 nella provincia pesarese. Cala anche al 10,7% il rapporto con i tamponi analizzati, rimane pressoché invariato. Invece il numero di pazienti negli ospedali della regione. In terapia intensiva c'è un paziente meno, per un totale di 150, mentre in semi-intensiva ce n'è uno in più, facendo salire il dato a 220. In questi giorni si discute sull'aumento dei punti vaccinali. Il sindaco Gabriele Bonci propone di ampliare quello già attivo all'ospedale di comunità di Fossombrone. È indubbio che un aumento delle sedi permetterebbe di incentivare e velocizzare le vaccinazioni, oltre a ridurre il disagio per gli spostamenti e la struttura ospedaliera di Fossombrone è assolutamente baricentrica rispetto al territorio della provincia di Pesaro Urbino. Lo dimostra anche la scelta di realizzare proprio lì il centro di stoccaggio delle dosi per tutta l'area Vassa 1. Sono le parole del sindaco Gabriele Bonci, che ieri ha inviato una PEC alla Regione e all'Asur per ribadire la necessità di mantenere ed anzi di ampliare l'operatività di quel punto di vaccinazioni già attivo per i sanitari, volontari delle cooperative, ma anche per gli operatori del settore e i docenti universitari. Noi in realtà già dal 15 febbraio in Consiglio Comunale abbiamo approvato una mozione presentata dalla minoranza e emendata dalla maggioranza in cui si chiedeva di lasciare aperto il centro di vaccinazione anche per la popolazione indistinta, che all'epoca si parlava solo degli over 80. Sappiamo che da ieri è partita anche la pronotazione per la fascia dai 70 ai 79 anni e ovviamente la priorità è quella ribadita in tutti i contesti di vaccinare quanta più gente possibile nel più breve tempo possibile compatibilmente con le dosi di vaccino disponibili, cosa che dovrebbero essere, a quanto ci dicono, un problema in fase di soluzione. Non si tratta di campanilismo, ha precisato il primo cittadino, ma in base ad elementi oggettivi credo che l'ospedale di comunità di Fossombrone possa realmente essere un punto di riferimento perché oltre ad essere baricentrico ha anche gli spazi necessari. Con un piccolo spostamento logistico, spostando queste vaccinazioni infantili all'interno dell'ospedale già abbiamo visto che ci sono degli spazi che potrebbero essere opportuni anche lasciando loro un ingresso riservato e dedicato, ci consentirebbe di liberare appunto questa palazzina che potrebbe essere adibita alla vaccinazione alla popolazione indistinta. Peraltro, sempre a tale scopo, sono dato qualche giorno fa ai medici di famiglia, si parla di coinvolgere in questa iniziativa, che si sono dichiarati ben disponibili a collaborare e il fatto di poterlo fare eventualmente nell'ospedale di comunità consentirebbe loro di avere gli spazi necessari perché c'è anche un problema logistico, oltre a poter utilizzare eventualmente, e sarebbe questo auspicabile, la collaborazione del personale infermieristico ed amministrativo perché la parte burocratica è piuttosto macchinosa. Lei anche questa mattina ha aggiornato sui dati riferiti ai contagi nel vostro comune, qual è la situazione? Pare sia migliorata? Sì, lo faccio tutti i giorni, è una cosa che la gente mi chiede costantemente, i dati sono in miglioramento, diciamo che ad oggi, stamattina, avevo 30 positivi e 45 persone in isolamento e circa 15 giorni fa era circa il doppio, sia per quel che riguarda le quarantene che i contagi. Lo dimostra anche il trend, la regione ci manda un report in cui settimane, diciamo, ci dà l'andamento delle ultime tre settimane e vedo che per fortuna Fossumbrune negli ultimi settimane è sempre in calo. Ribadisco, adesso non voglio cantare vittoria, dobbiamo continuare a stare attenti ovviamente, mi auguro veramente che questi vaccini si possano cominciare a fare su larga scala, in maniera veloce, perché poi abbiamo visto, guardavo anche il notiziario, per quel che riguarda la Gran Bretagna, dopo il lockdown, ma soprattutto dopo una dose massiccia di vaccini, ieri mi pare che abbia registrato zero decessi a Londra, per la prima volta, per cui evidentemente funziona, noi per cui dobbiamo fare in modo che si riesca appunto a vaccinare il più velocemente possibile, per cui ecco, massima precauzione, continuiamo ancora a tenerla a guardia alta, sperando che poi si possa tornare a un pseudo normalità, diciamo così. Io credo che l'affronto maggiore alla memoria di Carlo Urbani, lo facciano i sanitari che non si vaccinano, che rifiutano la vaccinazione senza un motivo. Lo ha detto oggi il professore Roberto Burioni, intervenendo da remoto nella seduta straordinaria del Consiglio regionale delle Marche, dedicata al medico marchigiano Carlo Urbani, che per primo individuò la SARS come nuova patologia e poi morì nel 2003 dopo esserne stato contagiato. Burioni, cresciuto a Fermignano, in provincia di Pesero Urbino, si è definito un europeista convinto, ma purtroppo ha detto in questo caso l'Europa ha messo in atto una catastrofe vaccinale, perché mentre altri paesi si sono mossi prontamente con velocità, noi qui stiamo molto indietro. Il virologo, come riporta l'Agenzia di Stampadire, ha parlato di un miracolo della scienza. In 11 mesi sono stati messi a punto vaccini efficaci. Israele, vaccinando solo il 51% della popolazione, è riuscita in assenza di lockdown a passare da 750 casi, ogni 100.000 abitanti, ad avere meno di 100 casi al giorno su una popolazione di 9 milioni. Lo stesso accade nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Io sono molto orgoglioso di quello che sta facendo la regione Marchi, ha dichiarato il professore, per quello che so si sta muovendo in maniera efficace. In altre regioni, ha concluso, le cose stanno andando molto peggio. Intanto il vaccino anti-covid AstraZeneca ha cambiato il nome in Vax Zevria, la richiesta avanzata dal gruppo farmaceutico anglo-svedese è stata approvata dall'EMA il 25 marzo, come si legge sul sito dell'Agenzia Europea del Farmaco. Nel foglietto illustrativo del vaccino, tra gli effetti collaterali, sono stati aggiunti rarissimi casi di trombosi che nelle scorse settimane avevano portato diversi paesi europei a fermare la somministrazione appunto del vaccino. E come avete sentito dalle parole del dottor Carlotti nel servizio di apertura del nostro telegiornale, aumenta il lavoro anche per l'Azur, l'area Vasta 1, che continua ad aggiornare il piano di vaccinazione, ma manca il personale sanitario. Ne abbiamo parlato con il dirigente medico Augusto Liverani che annuncia anche l'arrivo dei vaccini Pfizer. Oltre 160.000 persone nelle Marchi hanno ricevuto la prima dose del vaccino e più di 92.000 si sono già sottoposte al richiamo. Nella nostra regione, complessivamente, sono 255.000 i marchigiani vaccinati, stando ai dati aggiornati a questa mattina e pubblicati sul sito istituzionale. La maggior parte, 76.000, sono i cittadini, ovvero 80. Sigono gli operatori sanitari e sociosanitari pari a circa 34.000. Intanto ieri l'Azur, area Vasta 1, ha aggiornato il piano di vaccinazione e a fare il punto è il dirigente del servizio di igiene, sanità pubblica e prevenzione delle malattie infettive, Augusto Liverani. Da ieri alle 12 è possibile per i soggetti con più di 70 anni di prenotarsi la vaccinazione. Abbiamo riscontrato un grosso numero di adesioni, tant'è vero che questa mattina erano a livello regionale 70.000 le persone che si erano prenotate. Pensiamo di aver garantito un'ottima offerta di posti. Abbiamo circa 8.000 nuovi posti a Urbino, 14.000 a Fano e 16.000 a Pesaro. Questo ovviamente presupporrà che dovremo essere attivi molto spesso con tutti e tre i centri vaccinali e quindi questo richiederà uno sforzo organizzativo e di personale non indifferente. Nei giorni scorsi la Regione ha reso noto il cronoprogramma che è suddiviso in 13 categorie con altre tante modalità di accesso. La diversa priorità nella somministrazione varia in base all'età delle persone e alla presenza o meno di patologie. Stando alla tabella di marcia si dovrebbe completare entro aprile la prima fase per gli over 80 fino a raggiungere entro l'estate l'immunità della maggior parte della popolazione. D'altra parte il nuovo piano comporta un aumento della mole di lavoro. Lo sforzo organizzativo sarà sempre più intenso perché per raggiungere l'immunità di Greggio e quindi circa il 70% delle persone immunizzate è ovvio che dovremo intensificare l'offerta vaccinale. Possiamo farla già nei punti esistenti ma ovviamente abbiamo bisogno di più personale. Il punto vaccinale di peso può a nostro parere garantire da 1.500 o 2.000 la vaccinazione al giorno ma ovviamente questo presuppone la presenza di almeno 8 medici per turno, cosa che al momento ne abbiamo 4. Le dosi che avete a disposizione sono sufficienti? Al momento le dosi che abbiamo a disposizione sono sufficienti. Sappiamo che c'è un forte arrivo di vaccino Pfizer che fino a oggi invece risultava abbastanza carente. E nelle Marche è partita anche l'adesione al vaccino per i disabili gravi e per le persone estremamente vulnerabili. Filippo Pucci. Dopo l'avvio delle prenotazioni per la fascia di età 70-79 anni è possibile iscriversi ad apposite liste di adesione per il vaccino dedicate alle persone fragili o estremamente vulnerabili che non risultano seguite dalle strutture assistenziali ospedaliere e non hanno generato un'esenzione ticket. Per iscriversi è necessario accedere al modulo di prenotazione tramite il sito della Regione Marche. I referenti degli ospedali provvederanno poi a chiamare direttamente i pazienti iscritti nella lista per concordare l'appuntamento vaccinale. Dunque non è necessario accedere alla piattaforma di prenotazione di poste italiane. La Regione Marche ricorda che per gli estremamente vulnerabili che invece sono seguiti dalle strutture ospedaliere la vaccinazione è già iniziata nelle scorse settimane e procede per chiamata diretta da parte degli ospedali. Non è quindi richiesta la prenotazione o l'iscrizione alle liste. Sempre da ieri è possibile iscriversi anche ad apposite liste dedicate a persone con gravi disabilità che non sono seguite dalle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private. Per iscriversi anche qui è necessario accedere al modulo di prenotazione tramite il sito della Regione Marche. Queste liste verranno distribuite poi ai coordinatori dell'Equipe della Medicina Generale che provvederanno a chiamare i pazienti iscritti nella lista. La Regione infine fa sapere che la vaccinazione per le persone over 80 con gravi disabilità è già stata avviata. Nei prossimi giorni partirà anche quelle per le persone disabili che sono assistite ma in questo caso non è necessario provvedere alla prenotazione. E a Pesaro per il mese di marzo 2021 le rette dei midi e delle scuole dell'infanzia comunali e statali si pagheranno solo sulla base dei giorni effettivi di presenza. Lo fa sapere l'assessore alla crescita Giuliana Ceccarelli che annuncia anche l'azzeramento complessivo delle rette del trasporto scolastico. Con la chiusura delle scuole si sono ridotti i servizi erogati e questo ha comportato un saldo negativo tra minori entrate e minori spese di 64.000 euro. Una somma, spiega l'assessore, che sarà coperta nel bilancio comunale con le risorse stanziate per il fondo anti-covid. E adesso la crisi economica che ha colpito diverse categorie anche molti imprenditori, centinaia di imprenditori della provincia di Pesaro Urbino. Angelica Panzieri oggi ha intervistato il direttore generale della Confcommercio Amerigo Varotti che attacca le scelte del governo Draghi. Il governo si sbrighi a prendere una decisione sulle riaperture. Questa situazione è diventata insostenibile. Subito dopo Pasqua le serrande delle attività devono rialzarsi. Parla chiaro Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord che oggi di fronte alle telecamere di Fano TV ha ribadito il suo pensiero rispetto a quanto dichiarato dal premier Mario Draghi. Credo che sia un errore gravissimo da parte del governo Draghi. Intanto perché ormai è più di un anno che il governo Conte prima e il governo Draghi oggi se la prendono sempre con le stesse categorie di imprese che hanno dimostrato peraltro di non essere gli untori coloro che determinano i contagi. Tant'è vero che sono mesi che queste aziende sono chiuse, alcune non hanno mai aperto oppure i contagi aumentano, anzi aumentano in maniera anche molto elevata. Il che vuol dire che non è da questi comparti che deriva poi l'aumento. E poi mi lasci dire che non è accettabile che ristoranti, palestre, piscine sono soggette a queste chiusure quindi non possono lavorare e poi vediamo assembramenti costanti lungo le vie, le piazze, nelle zone della Movida. Quindi noi chiediamo che si riapra perché i ristoranti in maniera particolare hanno adottato e stanno adottando tutte le disposizioni previste dai vari decreti governativi e regionali. Ormai il decreto scade il 6 quindi ormai la Pasqua se n'è andata però chiediamo che subito dopo non si prendano altri provvedimenti di chiusura perché non hanno più senso. C'è la dimostrazione che non hanno senso perché o si chiude tutto e allora per 20 giorni, 30 giorni si chiude il paese un po' come l'ha fatto in Cina l'anno scorso ma queste chiusure solo in questi comparti poi è veramente inaccettabile la gente non ce la fa più. Il liceo Nolfi Apolloni di Fano ricorda con stima la figura di Atos Tombari artista di fama internazionale e insegnante morto nella giornata di ieri. Tombari nato a Fano nel 1930 era stato preside dell'allora istituto d'arte Apolloni tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. In veste di preside si legge in una nota è stato molto attivo nella promozione della scuola avviando progetti di collaborazione scolastica con il carnevale e con altre manifestazioni nazionali. Docenti e studenti, oggi affermati professionisti, lo ricordano con stima, affetto e gratitudine. 11 rotte serviranno l'aeroporto delle Marche 9 di queste riguardano invece nuove tratte che a partire dai prossimi mesi collegheranno le Marche al resto d'Italia e all'Europa 2 ridefiniscono i collegamenti già esistenti prima del Covid Bruxelles e Londra penalizzati a seguito della pandemia. Oggi il presidente della regione Francesco Acquaroli ha presentato alla stampa gli esiti del bando regionale pubblicato a metà gennaio per stimolare la ripresa dei traffici aerei nello scalo marchigiano con contributi alle compagnie di navigazione. Complessivamente vengono investiti 13 milioni di euro. Tutti i dettagli li troverete nel nostro sito occhioalanotizia.it ma sentiamo una breve dichiarazione del presidente. È un bel segnale per la nostra economia è un bel segnale in un momento difficile e soprattutto un'opportunità che noi dobbiamo raccogliere per rilanciare il nostro territorio e rilanciare la nostra capacità di fare turismo e anche di dare un servizio ai nostri cittadini marchigiani. Torniamo a Fano. Passo in avanti per la riqualificazione della caserma Paolini. Il Comune ha approvato la convenzione con la Scuola di Architettura e Design Edoardo Vittoria dell'Università degli Studi di Camerino. L'incarico, che ha un costo di 15 mila euro, è finalizzato alla redazione di un progetto di cultura, sostenibilità e innovazione tecnologica. Inoltre verrà organizzato poi un confronto partecipato con i vari soggetti interessati del territorio inerente alla progettazione, esecuzione e gestione della struttura. Il nostro telegiornale termina qui. Tra poco trasmetteremo una nuova puntata di Guarda chi c'è condotta da Paolo Notari e dedicata all'arte circense del circo marchigiano Tachimiri. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di domani mattina alle 7 in diretta con la Rassegna Stampa. Arrivederci. Grazie.